E' cominciato oggi pomeriggio il nuovo corso del Biceglie Calcio targato Nicola Canonico. Il 39enne imprenditore barese e neopresidente del Sodalizio Nerazzurro Stellato si è presentato alla tifoseria in compagnia del sindaco Francesco Spina e del presidente uscente Domenico Galantino. Parole decise quelle di Canonico che non lasciano dubbi sul progetto Biceglie. C'è stata una lunga chiacchierata con il vostro sindaco, io penso che sia il primo tifoso di Biceglie, un ragazzo molto sveglio, intelligente e un passionale sotto l'aspetto calcistico. Ci siamo incontrati, abbiamo un attimo pianificato quello che era l'interesse della piazza nel fare calcio, il mio interesse è quello di fare calcio per chi di molti mi conosce. Abbiamo il giusto mix, c'è la volontà da parte di una società di far bene e da parte di un'amministrazione di stare attorno a una squadra di calcio. Subito grande clamore attorno alla notizia del suo arrivo a Biceglie. Quali sono le intenzioni da parte sua? Le nostre intenzioni sono già ben chiare, abbiamo già provveduto a fare una domanda di ripescaggio, stiamo per spedire il tutto, abbiamo tempo entro il 7 di questo mese. Dicevo prima a qualche suo collega che non dobbiamo viverla come... Noi facciamo quello che bisogna fare, cioè presentare la domanda. Stiamo allestando un organico, allestiremo un organico che potrà affrontare entrambe le categorie, quindi allo stesso modo, o in eccellenza o in D. Si vuole far bene, si vuole creare un organico competitivo, sulla carta dovremo essere fra le favorite al campionato, se stiamo in eccellenza. E se questa squadra viene poi ripescata in D, potremo dire la nostra anche in Serie D. Novità anche dal punto di vista tecnico, sarà Giorgio Detrizio, colonna del Bari anno 80, il nuovo allenatore. Rappresenta la storia calcistica pugliese di Giorgio Detrizio, è un professionista, ho gente attorno che ha fatto professionismo come me, è una struttura fatta da dirigenti all'altezza della situazione. Si vuole far bene iniziando dall'allenatore, io penso che Giorgio rappresenta oggi sul mercato dei dilettanti, poi starà a lui di mostrarlo sul campo, diciamo quanto di meglio si può scegliere in questo momento. La presenza di Fusiello questa sera è sintomo di sinergia con l'Andria? C'è una forte amicizia con Riccardo, con Fusiello, che ci lega da tanti anni, abbiamo collaborato insieme l'anno scorso. È rimasta questa amicizia, da parte sua c'è tutto l'interesse ad aiutarmi in questo nuovo progetto. Ci sono molti miei calciatori all'interno dell'Andria, qualcuno lo dobbiamo portare necessariamente a Piceglie per far bene. Diciamo che io sono fiducioso, siamo due amici a prescindere il calcio e quindi ci rispettiamo anche come amici. Si aspettava un'accoglienza del genere, tanti tifosi oggi qui per accoglierla, cosa sente di promettere loro? A me non piace promettere perché nel calcio le promesse poi rimangono negli albi. Vorrei con loro festeggiare molte vittorie e togliermi le soddisfazioni insieme con loro. Se sarò soddisfatto io saranno soddisfatti sicuramente anche loro. Subito grande entusiasmo quindi da parte dei supporter nerazzurri e le intenzioni sembrano chiare. Andiamo in Serie C!